Se stai avendo difficoltà ad avviare il gioco Tron & Liberty è possibile risolvere il problema riguardo anche alla scheda grafica che ha bisogno di essere aggiornata, quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato così il link che ti porterà sulla pagina per scaricare il programma che si chiama Nvidia App, proprio così si chiama. Tu scarichi e installi la beta ed ecco qua, il programma come puoi vedere oggi hanno rilasciato un aggiornamento proprio anche per Tron & Liberty, quindi se tu stai avviando il gioco senza un driver nuovo installato sul tuo computer il gioco può avere problemi di crash, problemi driver e altri problemi ancora. In questo caso tu scarichi e installi così l'aggiornamento su Drive Game Ready, cerchi così l'aggiornamento da fare e installi il driver per il gioco. E stai certo che poi il gioco partirà senza nessun problema e problemi di crash, quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!